Buonasera, mi chiamo Penelope Ryan. Questa è una commedia in cui si parla di gente che ama uccidere e di gente che invece no. Io sono Harold Ryan. E questa non è una commedia. Questa 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 è una commedia. Io ho raccontato che era il suo bisogno di chiamarmi verso casa. Ho mentito.